Un cordiale benvenuto a tutti i nostri telespettatori della Toscana che ci stanno seguendo in questo appuntamento quindicinale con l'informazione sindacale curata in collaborazione con la CGL della provincia di Livorno. In studio ospiti per questa trasmissione a partire dall'estrema a destra Monica Cavallini che è vice segretaria generale della CGL con delega alla sanità e poi qui al centro accanto al sottoscritto Andrea Rizzini anche lui responsabile della funzione pubblica. Allora si è detto una parola magica, sanità in quanto in pratica si apre un vero e proprio cosmo di problematiche da affrontare e se la affrontiamo specificatamente per il territorio della provincia di Livorno non crediamo che possa fare eccezione nei confronti di altre dinamiche che si registrano in altre province. Cominciamo subito con Monica Cavallini. Allora, un anno e mezzo fa, 18 mesi fa, quindi un anno e mezzo fa, partiste con i protestanti nei confronti delle politiche, ovviamente il giornale del welfare, con un confronto legato alle problematiche della sanità, confronto che poi col tempo e con non poca fatica finalmente avete iniziato, ma non sembra che conduca ad alcune risposte pratiche, concrete, quelle che voi aspettate. Quali sono i punti di maggiore difficoltà su quale c'è muro contro muro? I punti di maggiore difficoltà che abbiamo ad oggi è la mancanza totale dell'applicazione di quella che è stata la riforma sanitaria, nel senso noi siamo passati da un sistema sanitario che vedeva l'ospedale al centro come risposta rispetto alle esigenze dei cittadini, all'ospedale per intensità di cura dove ci deve essere una territorialità importante legata al discorso delle case della salute, cosa che invece ad oggi, da diversi anni, dall'entrata in vigore della riforma purtroppo continuano a non esserci, nel senso erano state previste per Livorno, parlo di Livorno, almeno quattro case della salute perché ci doveva essere via del mare che come tutti ben sanno ormai da diverso tempo che ha anche lavori fermi, nel senso lì i lavori sono partiti però per tutta una serie di vicestitudini, ad oggi non sta andando avanti, c'era via Peppino Impastato che però sembra che non sia gradita da parte di alcuni medici di medicina generale che comunque devono andare all'interno delle strutture, c'era praticamente il poliambulatorio che anche questo dopo tante vicestitudini dovrebbe partire ma che ancora ad oggi stenta a decollare perché è stato neanche del tutto svuotato perché ancora alcuni uffici ci sono e poi rimane il grande problema legato alla parte nord di Livorno dove c'era il terreno nella zona dei fratelli Gigli dove c'erano delle atriba rispetto con l'amministrazione comunale e che ad oggi pare che ci possa essere un'opportunità in più da parte di un accordo tra l'amministrazione comunale e l'azienda per individuare in quella zona una casa della salute che dia risposte. Il problema però è che tutte queste case della salute che dovrebbero dare risposte dal punto di vista della territorialità e quindi dei servizi legando anche la possibilità di alcuni codici della gestione, di alcuni codici di bassa profilazione tipo i codici bianchi o adesso vengono numerati quindi quelli di bassa cura purtroppo non essendoci non danno risposte e questo che cosa comporta? Comporta anche quei problemi che abbiamo letto in questi giorni dell'intasamento dei pronto soccorso perché è normale che non avendo risposte rispetto a tutta una serie di situazioni i cittadini da questo punto di vista prendono e vanno al pronto soccorso giustamente per chiedere la cura. Quindi questa cosa della territorialità è una delle battaglie che da diverso tempo sul Livorno, ma potrei parlare benissimo anche su Piombino perché anche su Piombino ci doveva essere una casa della salute che doveva essere ultimata praticamente entro quest'anno e che invece vede lo slittamento al 2022. Il messo conto del territorio provinciale ce lo facciamo dire da Andrea Rizzini. Chiudo, faccio una breve chiusura facendo questa considerazione, quindi è tutto un procedere di causa-effetto per il quale è inutile stare a gridare allarme sulla lista d'attesa e magari essere ridondanti nell'indicare la lunga attesa del paziente tal dei tali o perché la gente brontola, perché c'è il meccanismo che potremmo in qualche maniera fare da sfiatatoio che è quello della casa della salute e nel contempo attuare una politica di welfare che viene addirittura menzionata, non vogliamo aprire una finestra molto alta, ma è stata sancita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quindi dalla cosiddetta Agenda 2030 che ha dato le priorità planetarie, quindi immagino ci rientriamo anche noi, che è quella di considerare quelle società che hanno un tasso di invecchiamento in accelerata, che stanno accelerando e che non viene compensato dalle nuove generazioni, quindi dalle nascite, per cui in pratica anche la sanità deve in qualche maniera indirizzarsi verso non un isolamento, ma una cura, un criterio particolare verso la cosiddetta quarta età che ha delle cronicità, ha bisogno di seguire strade completamente diverse perché altrimenti si ritornerebbe anche qui a riempire lo solito corridoio che è quello dell'accedere al pronto soccorso, quindi da una parte la mancanza di calda salute e da parte la mancanza di una politica adeguata in quei confronti e che poi andrà incontro a un ulteriore decremento di cui parleremo dopo e che in pratica potrebbe sommando le cose un po' a collassare. In pratica il meccanismo che voi cercate di spingere affinché sia capito, perché se ci sia una strategia, ci sembra di respirare che invece qui si ragiona più sull'emergenza. La strategia ha questi due capitoli che sono due printi essenziali, mi conferma? Certo che sì, è dato di fatto che la presenza e l'incremento delle persone anziane sul nostro territorio negli ultimi anni sta incrementando notevolmente e quindi è normale che serve una risposta dal punto di vista sanitario che tenga conto delle pluripatologie a cui sono soggette le persone anziane. Quindi rispetto a questo avere delle strutture che in qualche modo riescono a dare risposte, perché per esempio le case della salute potrebbero dare benissimo risposta anche a tutta una serie di esami che ad oggi invece vengono caricati sull'ospedale e quindi dare anche uno snellimento di tutto quel discorso legato alle liste di attesa. Noi abbiamo un grossissimo problema per quanto riguarda il discorso legato alle liste di attesa che è dovuto al fatto principalmente intanto che mancano molti medici perché rispetto alla situazione complessiva abbiamo una carenza di specialisti importante non solo dal punto di vista territoriale perché effettivamente anche le assunzioni a tal riguardo non è che rispondano appena a quelle che sono le esigenti del territorio della provincia. Facciamo così, affrontiamo questo discorso subito dopo perché era lo step successivo, torno allo step precedente in base a quelle che sono state le indicazioni dell'asset urbano di Livorno essenzialmente, ma per fare una panoramica sul territorio della provincia che ovviamente la provincia di Livorno ha questa particolarità che si sviluppa in lunghezza, quindi non è radiale e necessariamente non hai un punto medio sul quale poter raggiungere, ma devi distribuire sul territorio determinate stazioni di presidio, quindi da Livorno a Piombino ci sono 80 chilometri, la stessa distanza che c'è da Livorno a Firenze, ma si attraversano tre province, Livorno a Pisa a Firenze, invece in questo caso è una provincia unica e molto spesso non si considera anche il fatto che non solo si inizia a Piombino, c'è anche l'arcipelago delle isole, quindi l'isola d'Elba che va tenuta in considerazione non perché è isolata, ma che è compresa nel territorio. Il bilancio, Ruzzini? Il bilancio ci consegna, come diceva prima Monica, una riforma al sistema sanitario regionale che ha messo insieme realtà molto diverse fra loro, dove per l'appunto l'intensità di cura non ha ancora trovato applicazione per niente, speciale per quello che riguarda la parte del territorio, dove gli ospedali continuano a essere il fulcro del sistema sanitario regionale. Questa riforma ci consegna una USD Toscana Nord-Ovest, dove ci sono discrete diversità di trattamento, mi faccio un esempio per capirci meglio, in altre province abbiamo diverse percentuali di personale per abitante piuttosto che posto letto per abitante, lo stesso vale per i medici di medicina generale, nella nostra provincia ci attestiamo 1 su 1.500 abitanti, in altre province 1 su 950 abitanti, lo stesso vale per i pediatri, la stessa cosa si può dire per il personale del comparto. Abbiamo grosse difficoltà in alcune unità operative. Mi permetto una battuta, non mi occupo di pulire, avendo la storia alle spalle le abbiamo citato una percentuale, è venuta in mente che la città di Livorno nel censimento del 1611 aveva 3.118 abitanti e un medico, sembra quasi di stiano studiando la possibilità di arrivare alle stesse proporzioni, ma eravamo nel 1611, quindi… E fortunatamente la sanità è un po' cambiata, meno male, va avanti, scusi. No, riguardo a questo, quindi quello che chiediamo noi fortemente all'azienda è di ripristinare dei parametri, discutere dei parametri che ci portano ad un'armonizzazione anche su questi numeri, avere quindi che i cittadini di Livorno, della provincia di Livorno abbiano pari trattamento, pari dignità in tutta la USA Toscana Nord-Ovest come avviene per le altre province. Come mai ogni volta che magari un tipo di tematica di intervento, che sembra sempre che possa essere tolta dall'ospedale di Cecina, per non dire di Piombino, allora subentra un coro di difesa a unghie serrate perché c'è sempre la minaccia che se spostano un tipo di professionalità, di conseguenza una sorta di effetto domino potrebbero sgretolare anche tutte le altre affini che gli stanno dietro, quindi c'è proprio una sorta di difesa arroccata di quello che c'è nei vari presidi ospedalieri, c'è una motivazione? Sicuramente è una motivazione dettata dal bisogno, dal percezione, dal bisogno che i cittadini hanno di sanità, tutti noi vorremmo abitare nella città, nel luogo dove in caso di bisogno ci sia la sanità migliore, questo penso sia ineruttabile, come dicevi prima dal 1600 che è citato, adesso è cambiata tanto la sanità e sta cambiando, le leggi, la normativa ci stanno portando a avere dei numeri sotto i quali non si può scendere per prestazione, quindi in questo per esempio l'asset ospedale unico Cecina-Piombino ci aiuta e aiuta i cittadini della provincia a avere delle specialità che altrimenti singolarmente non avremmo più, è chiaro che alcune cose possiamo mantenerle su un presidio piuttosto che altre su un altro, l'importante è non perdere le specialità, così lo stesso vale per l'ospedale dell'Eba perché anche i cittadini elbani hanno bisogno e hanno diritto alla loro sanità, buona sanità, poi la parte virgolette maggiore, essendo la città più grande della provincia e una delle maggiori della Toscana, la fa l'ospedale di Livorno dove fra l'altro nonostante non siamo stati sostituiti, voi per uscite varie, voi per pensionamento, voi per trasferimenti, tanti specialisti non sono stati sostituiti e nonostante questo riusciamo ad oggi a mantenere delle ottime performance con delle ottime specialità, non cito qui una per un'altra per non offendere nessuno, ma sicuramente le abbiamo, come dicevi prima, dobbiamo smettere di rincorrere l'emergenza, purtroppo nei prossimi anni da uno studio fatto usciranno molti specialisti per la quota 100 che è stata rinnovata e per la legge Fornero. Ecco, e qui io riapro la finestra a Cavallini, perché da una parte c'è la mentela a non rendere concrete, funzionali, quelle soluzioni, quelle corsie laterali che servono a tenere più fluido il traffico di accesso al portale del pronto soccorso e nel contempo se va via il personale dal tratto centrale, perché di qui a due anni ci sarà un'uscita di persone che vanno in pensione, profittando delle due voci che ha detto Rizzini, come è possibile far funzionare anche le due corsie laterali se il personale viene a mancare anche al centro? Allora, è normale che abbiamo bisogno, come si diceva, che ci sia una programmazione per quanto riguarda la sanità e la programmazione vuole dire intanto programmare, perché è visibile tranquillamente, cioè l'azienda ha a disposizione tutti i dati per quanto riguarda quella che è la platea del proprio personale che opera all'interno degli ospedali e da lì può sapere benissimo quali possono essere le uscite di qui a breve, sia del personale specialistico, quindi dei medici, professionisti, sia per quanto riguarda il personale del comparto. Quindi quello che noi chiediamo è che l'azienda faccia una programmazione, quindi non agisca sull'emergenza, cosa che sta creando anche una gestione abbastanza onerosa, perché per quanto riguarda quando uno arriva a gestire l'emergenza è normale che in quel momento deve cercare di trovare tutta una serie di situazioni per aggredire il problema e dare la risposta nell'immediato. La programmazione permetterebbe intanto di avere una copertura continua per la cittadinanza e non a spot. L'esempio è stato il discorso del sovraffollamento, cioè si interviene il sovraffollamento quando si sa che tutti gli anni in questo periodo c'è il problema legato al picco influenzale e non penso che sia una novità legata al 2019, ma se andiamo anche negli anni passati, 2018, 2017, ma addirittura penso anche negli anni ancora più indietro, è normale che in questo periodo c'è un'esigenza maggiore di richiesta per quanto riguarda il discorso dell'ospedale. A quel punto l'azienda deve programmare in anticipo, deve programmare questo come deve programmare un altro problema che noi abbiamo più volte evidenziato e che in questo momento è stato gestito solo in maniera emergenziale, è il problema legato al 118 e all'emergenza urgenza. In passato, se ci ricordiamo tutti, era uscita anche sulla stampa il problema legato al fatto che ci sono dei medici che sono praticamente medici delle associazioni che danno supporto al pronto soccorso, quindi i medici di del 118, c'era creato anche un momento di tensione rispetto a tutta una serie di partite per cui si rischiava che non venisse neanche garantito il discorso dell'emergenza urgenza, questo problema oggi è stato risolto, però non è detto che non si ripresenti perché non è stato gestito alla base, se noi non andiamo a gestire la base, quella che è l'esigenza della dotazione effettiva organica del territorio, ma non solo, anche dei posti letto, noi più volte, se si va a vedere sulla stampa, ma non solo, anche nelle trasmissioni che abbiamo fatto qui da voi, abbiamo evidenziato il fatto che abbiamo un numero di posti letto che è inferiore rispetto a quella che è la media regionale, questo che cosa comporta? Che in un momento come quello attuale dove abbiamo anche un discorso di picco rispetto a… Sanità, se nella Toscana va a due velocità, così come ha messo anche dalla stessa Assessore Saccardi nelle ultime dichiarazioni sulla stampa, a livello nazionale è uguale, nel senso abbiamo delle sanità che viaggiano molto meglio, tra cui ci sono alcune regioni, dove dentro c'è anche la Toscana, perché non è che vogliamo buttare via il bimbo e l'acqua sporca rispetto a questa cosa qui si sente. Qualitativamente ho visto delle votazioni, chiamiamole delle pagelle di merito e la Toscana rientra tra le prime cinque regioni, quindi insomma sono venti… No, ma infatti dal punto di vista qualitativo e appunto, come diceva prima anche Andrea, oltretutto nell'ospedale di Livorno e anche sugli altri ospedali noi abbiamo anche delle eccellenze, il fatto che le cose in qualche modo vadano così avanti e che quindi ci siano risposte è perché c'è il personale che sta rispondendo e sta rispondendo in maniera corretta, impegnandosi in maniera profonda da tutti i punti di vista, però non possiamo continuare a chiedere al personale di andare e accollarsi dei ritmi anche di lavoro che diventano abbastanza importanti, perché poi insomma alla lunga diventa davvero anche difficile, ma poi c'è questo problema appunto che dicevo legato al discorso che non avendoci dei posti di letto che sono sufficienti, oggi ci creano tutta una serie di difficoltà, ma la nostra preoccupazione e qui ecco l'altra cosa che noi andiamo a chiedere poi all'azienda, è il discorso della prospettiva, nel senso noi sappiamo che appunto dovrebbe partire questo progetto del nuovo ospedale, perché sembra che si sia trovato l'accordo tra l'amministrazione comunale e l'azienda per quanto riguarda il nuovo insediamento, quindi la domanda che ci poniamo è se oggi noi abbiamo già una criticità di posti e l'ospedale diciamo che è quasi a completo, quindi viaggia a regime, domani quando ci sarà una rivisitazione di quella che è la struttura sanitaria, perché per quello che noi sappiamo molto probabilmente alcune strutture verranno dirottate da altre parti, quindi sempre all'interno dell'ospedale, che cosa succederà di posti letto? Rimarranno i posti letto attuali, quindi quando ci sarà il lavoro per il nuovo ospedale o si ridurrà notevolmente? Se si riducono notevolmente così come noi pensiamo, è normale che per tutta una serie di cose che si diceva, compreso il discorso legato all'esigenza maggiore di sanità che è legata alla presenza di persone anziane, dobbiamo trovare degli spazi dove poter gestire questa criticità, perché sennò diventerà ancora di più un sistema che si annoda su se stesso. Ecco l'importanza della programmazione, quindi quello che noi rilanciamo fortemente è mettiamoci a un tavolo, cerchiamo di capire come si riesce a dare un servizio alla popolazione, perché che cosa succede e cosa ci preoccupa, non solo a livello locale ma anche a livello nazionale, stiamo assistendo a una situazione dove sta crescendo fortemente la presenza del privato e questa cosa a noi preoccupa fortemente. Preoccupa perché non tutte le persone sono in grado di sostenere le spese e quindi c'è anche un abbandono forte, quindi ci sono molte persone che non si curano più e di conseguenza questa cosa ha creato una serie di disparità che noi in qualche modo vorremmo provare a frenare per far sì che davvero il sistema pubblico, per come l'abbiamo conosciuto, riprenda il governo della situazione. Quindi è una situazione abbastanza complessa dove effettivamente serve un intervento forte da parte di tutti con un forte senso di responsabilità. Bene, qui poi passo in chiusura a Rizzini, in pratica io faccio così, il discorso lo faccio, l'avvocato del diavolo, e se c'è voluto del tempo, guardando dei titoli che ho raccolto da voi anche pubblicati sul vostro sito e quant'altro, sulle difficoltà che c'erano proprio a relazionarsi con le dirigenze dell'usla di competenza, fin dal 2017, quindi sono passati praticamente due anni, se in due anni avete premuto per avere un confronto, confronto che non c'è stato, poi finalmente si è realizzato, alla fine è stato, chiamiamolo così, usando un termine, approntato, approntato, com'è che potete pensare che ci sia un rimboccarsi in maniche, un lavorare sulla programmazione, usando sempre tempi che strutturalmente andrebbero indicati come biblici, perché se ci vogliono due anni per metterci a segliere, come si interviene, quando mai si arriverà a dire pronti via e si realizza concretamente, perché noi abbiamo bisogno di concretezza. La domanda non è di poco conto e capisco il dubbio, più che legittimo, con la nuova direzione non è che non abbiamo avuto rapporti, siamo riusciti a metterci ad un tavolo, a iniziare un percorso, il problema è che il percorso non sta trovando al momento delle risposte che ci soddisfino, in merito anche a quello che stava dicendo Monica Pocanzi. Come pensiamo di fare? Sicuramente col nostro impegno, sempre stando, come si suol dire, passatemi il termine al pezzo e chiedendo anche tramite le nostre strutture, compreso quella regionale, un intervento a livello regionale, perché ripeto, la riforma al sistema sanitario regionale non l'hanno voluta i sindacati, è stata una riforma in questo momento a costo zero, quindi penso che la regione su questo possa mettere un contributo su questo. Chiudo la trasmissione, in pratica noi abbiamo visto promesse di riforme, riforme non attuate, stiamo sempre a cavallo su questo cavallo. Una domanda così a Bruciapelo, Cavallini, non è che si respiri questa sorta di temporeggiamento allungato nel tempo per vedere poi come vanno a finire le regionali, per vedere se cambiano dirigenze, teste, programmi o qualcosa, insomma viaggiano un po' in simbiosi, attuazioni e ora che si sta per andare incontro, oppure no? No, rispetto a questa cosa qui noi non stiamo temporeggiando, diciamo che recentemente è uscita una delibera che in qualche modo mette anche dei finanziamenti per quanto riguarda l'attuazione di tutte quelle cose che si riceveva dalle case della salute al discorso del presidio ospedaliero, quindi auspichiamo che essendoci delle risorse in ciccia da questo punto di vista si possa davvero iniziare a parlare di una svolta per questo territorio. Va bene, allora chiudiamo la nostra trasmissione, la sanità quando si tocca è un vero e proprio cosmo, ringraziamo per essere venuti qua da noi, a ospiti per la trasmissione Andrea Rizzini per la funzione pubblica CGL e la vice segretaria generale del CGL, comunque delega responsabile della sanità, Monica Cavallini. Grazie e noi naturalmente ci rivediamo qui tra 15 giorni ovviamente con un altro tema. Grazie a tutti.